Allora ragazze, io sto provando la fascia, è stato un dramma inserirla all'interno, perché non so, piange disperata, però sembrerebbe che ce la sto facendo, non voglio dire troppo. Rosalinda Cannavò, conosciuta per il suo rapporto aperto e sincero con i suoi fan, ha condiviso questa mattina un aggiornamento molto atteso, in seguito ai consigli dei follower che le avevano suggerito l'acquisto di una fascia porta bebè per poter tenere sempre con sé la piccola Camilla senza rinunciare alla libertà delle mani. Rosalinda ha deciso di provare questo pratico accessorio. Con entusiasmo ha raccontato le prime esperienze con la fascia, descrivendo anche qualche iniziale difficoltà nel sistemare la bambina al suo interno. Tuttavia, una volta trovata la giusta modalità, Rosalinda ha osservato come Camilla, avvertendo la presenza e il calore della mamma si sia tranquillizzata rapidamente fino ad addormentarsi serenamente. Il risultato? La fascia si è rivelata un alleato prezioso, non solo per Rosalinda, ma soprattutto per la piccola, che sembra apprezzare il contatto rassicurante. Con questo strumento, Rosalinda riesce ora a vivere al meglio le giornate con Camilla, combinando praticità e dolcezza, e mostrando come anche un piccolo accessorio possa fare una grande differenza nel quotidiano di una neomamma.